mercury comics eccoci ciao a tutti questa è mercury comics e a fianco a me c'è bigio ciao sono a fianco a lui allora bigio l'avamo contattato per sentirci a lucca poi a lucca era un po impegnato giusto un attimo quindi abbiamo detto vabbè condividiamo la stessa città ma perché non viene a trovarci in studio e quindi eccolo qui salve allora partiamo come direbbero quelli che ne sanno in media res tu hai una produzione compulsiva di materiale quello che vedete sul tavolo questo qui io nego questa è diciamo una parte del materiale che bigio ha prodotto ha una parte nel senso che si parte da qua questa è la storia la storia il primo drizzit quando ancora shockdom non era entrata cioè lui non era entrato in shockdom poi drizzit ha avuto tutta la storia che sappiamo in in shockdom ma mica finita lì perché poi è nato questo in collaborazione con shockdom sono nate anche questo anche questo qui però siamo già su mini games no perché adesso vi racconto una cosa qui siamo su mini games qui e qui scusate eccoli qua fosk edition stai andando per editore sto andando per aiuto anche questo ecco appunto poi c'è questo che questo era fondamentale per chi conosce la storia di di author ci sono le muse uno dice ci sono le muse facile con le muse crescono soprattutto nel terzo volume esplodono le muse sì terzo perché questo è quarto quindi ci siamo non numerarli così che poi ti impicci questo qui non è neanche il quarto è il quinto fuori serie a un certo punto queste muse esplodono e esplodendo l'autore che magari non ha fatto studi classici c'è il lettore che non ha fatto studi classici si trova un po smarrito questa è la guida definitiva alle muse e quindi qua siamo in casatora dopo casatora c'è questa bikini armor vedete numero uno salda press ora qual è il problema ovviamente qua sotto c'è shockdom un po più o meno dappertutto perché abbiamo cominciato con shockdom qual è il problema principale problema principale che come bigio sa ma voi forse non sapete quando ci sono le convention l'autore viene chiamato dalle case editrici presso cui ho pubblicato per fare disegni tipo visto che ce n'era uno che stava partendo tipo questo per intenderci per fare disegni ai tutti i pellegrini che si sono fatti un po di coda per andare a o tipo quello che si sono fatti un po di coda per appunto avere il disegno sul volume perché adesso immaginatevi voi qualcuno che ha pubblicato per cinque per ora case editrici o siamo già sei forse sei conti anche i giochi anche sei immaginatevi cosa può succedere quando l'autore in questione deve conciliare le agende di sei case editrici con la sua vita privata diventa complicato quindi vi chiederete perché non avete intervistato lucca questo è lo devo dire premetto che a lucca la vita privata cioè puoi anche evitare di di averne una ok però c'è questa ansia da prestazione che hanno tutti quanti gli editori di dover uscire a lucca perché poi lucca è un po come il salone del libro dei fumetti sembra quasi o dei giochi anche sembra quasi che se non esci a lucca non ci sei non esisti e quindi devono comunque anche fosse solo un depliant una brochure deve uscire a lucca perché altrimenti e quindi poi se esce qualcosa di mio automaticamente poi gli editori ovviamente vieni a fare un piccolo firmacopio anche da noi allora lavorando con più editori mi sono trovato che a lucca effettivamente usciva anche avventure per ms edizioni ma usciva anche che qui non abbiamo i libri game che ho fatto con gate on games un'altra casa editrice infatti quindi facendo il firmacopio un po da salda presso un po da tora un po da ms edizioni un po da gate on games e stiamo parlando solo delle cose che sono uscite proprio a lucca e avevo il programma tutto pieno infatti mi chiedevo se volevi coprire tutti gli editori di lucca allora io io vorrei giusto dare un un piccolo consiglio a chi volesse fare questo lavoro nella vita perché come ben sai insomma noi ci conosciamo da poi io faccio questo di lavoro non faccio un'altra cosa faccio proprio questo il web comic creator partisti tanto tempo fa con una fumetteria quindi comunque in zona l'ho lasciato proprio quel lavoro perché avevo prima prima gestivo una fumetteria perché dovevo dedicarmi appieno a questo lavoro dove se non ti ci dedichi appieno è difficile che diventi il tuo lavoro effettivamente e non c'è niente di male a tenerselo buono come una cosa bella da coltivare nel tempo perso mentre si fanno altre cose che ti aiutano a vivere tipo ok però io volevo proprio che questo fosse l'argomento del mio vivere e quindi un consiglio che mi permetto di dare è proprio questo di differenziare la produzione e provare con più editori perché così non sei più sotto è brutto dire sotto il gioco però non sei più sotto l'ala di un solo editore puoi permetterti ad esempio se un editore a un certo punto decide di non dare più fiducia a un tuo progetto vabbè non importa ne ho altri quattro o cinque e continuare a vivere di questa cosa dei fumetti e dei disegnetti dei disegnetti ecco parliamo degli ultimi delle ultime pubblicazioni c'è stato anche un kickstarter c'è stato anche un kickstarter per Little Rocket Games quindi un altro editore che è stato un po' bistrattato quel kickstarter perché nel frattempo c'era anche Essen quindi l'editore con tutti i game designer erano ad Essen hanno lanciato il kickstarter una settimana prima e poi sono volati via e mi sono ritrovato un po' a gestirlo io perché comunque avevo siccome ho partecipato nel ruolo di illustratore del gioco avevo comunque tutti i disegni dei personaggi e così via e quindi mi sono trovato un po' a promuoverlo questo gioco che però non era a me che aspettava farlo e quindi questo gioco è passato un po' inosservato devo dire è kickstarter è passato? sì 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 finanziato l'editore era contentissimo adesso andrà in produzione uscirà nei negozi addirittura in anticipo rispetto alla data è tipicissimo ma arriva prima il kickstarter o arriva prima i negozi? è una cosetta che fa imbestialire che fa il kickstarter io penso che arrivi in contemporanea però la buona notizia è questa siccome ero stato ingaggiato per fare un certo numero di carte e a un certo punto mi ha preso la mano e glielo ho consigliato tipo 6-7 in più così e che è scendo questo personaggio che faccio? vogliamo lo fanno esatto no però ho avuto contatti con il game designer con Zemilio che è uno dei due che hanno creato il gioco mi ha detto guarda tranquillo le stampiamo tutte e poi quelle lì ce le teniamo come magari promozione o delle cose per le fiere io sono contento perché vuol dire che nessuno dei miei disegni dei personaggi andrà effettivamente smarrito ecco quindi a Luca abbiamo è uscito The Author 5,5 5,4 allora allora Piero permettimi vai no questo è uscito un po' prima di Luca no questo è uscito un po' prima un po' prima questa è un'edizione super fighissima che ha fatto Tora questi due volumi in realtà sono una variant una variant perché se no sembra che ho fatto due albi no si sceglieva la copertina esatto si sceglieva la Fosca Edition o la Talia Edition e si aveva praticamente tutto l'interno è praticamente identico tranne per una piccola galleria finale e un intervento all'interno di un episodio che cambia perché nella Fosca Edition interviene Fosca e nella Talia Edition interviene Talia e poi vabbè la copertina ma insomma più o meno il prodotto è lo stesso quello che dicevi il Muse Compendium è uscito quasi subito dopo perché questa pubblicazione è la prima che faccio con Tora Edizioni per The Author e non volevo che fosse necessario per conoscere tutta la lore che c'è dietro a questo fumetto andare a rincorrere i vecchi volumi ecco ma sai perché ti ho detto è uscito per Luca perché questo purtroppo mi sono dimenticato di dirlo quando abbiamo intervistato il signor Tora Edizioni Tora Edizioni Gianluca Gianluca sì ho faticato a trovarlo prima di Luca sto fumetto ma ho faticato tanto tanto che in fumetteria quando poi sono arrivato dopo ho detto guarda annullate l'ordine ce l'ho già l'ho preso a Luca perché era assumo molto richiesto e quindi si faticava a trovare a Luca c'era tutto Sì beh Diodor è proprio il mio webcomic che va di più dopo Drizzt che ormai è una epopea conclusa però Drizzt è chiuso sì si è chiuso nel 2019 invece Diodor ancora lo porta avanti perché ogni tanto a parte piace quindi è bello rimanere visibile online con qualcosa che ha comunque molto seguito ma poi con Diodor trovo sempre qualcosa da dire quindi ogni tanto mi viene in mente un aneddoto mi viene in mente una metafora qualcosa di interessante che succede magari a me personalmente nella vita e è facile farne la trasposizione in veste di Diodor Sì per chi non conoscesse proprio il prodotto Diodor immaginate a una metanarrazione è bello è bello sì ha sottoscritto piace molto infatti quando lui mi aveva detto ma forse lo chiudo no andiamo avanti una metanarrazione perché come dicevo prima lui si spende su molti campi anche di letteratura perché io a caso ho due dei tuoi volumi non ci sono neanche i libri effettivamente ma scrivo anche i libri potevo portare Carlo del Pinolo esatto però Diodor ovviamente l'autore siccome non so se si nota una certa qua somiglianza con il nostro il personaggio principale è ispirato a me mi piace dire questa cosa è ispirato a me perché è facile creare un personaggio che ricalchi se stessi qualcuno più bravo di me una volta disse raccontate sempre cose che conoscete certo e chi conosci meglio di te stesso quindi è facile fare un personaggio che ti somigli e in questo caso il protagonista della storia è appunto l'autore di tanti libri e fumetti che viene visitato in casa propria dalle muse che lo ispirano solo che queste muse hanno proprio forma fisica cioè gli entrano dentro casa gli si bivaccano in casa sua e quindi si creano tutta una serie di situazioni molto interessanti sì peraltro muse che fino a qualche volume fa solo lui poteva vedere adesso diciamo che la questione sia un pochino complicata sì diciamo che c'è un arco narrativo che ho portato avanti per i primi quattro volumi in cui c'entrava anche tutta questa mitologia delle muse spiegavo tutto quello che c'è dietro quante erano che settori ispiravano in che modo e c'è anche tutta la storia la relazione tra lui e la ragazza perché Fosca non è una musa ma è la ragazza è un essere vivente il carne e osso l'autore ok e c'è tutta questa cosa però ecco tutto quell'arco narrativo l'ho concluso col quarto volume dalla fine del quarto volume in poi ho cominciato a raccontare di author in maniera episodica quindi quello che succede ogni volta che esce un episodio è un spot sulla sua vita e per questo ti dicevo è molto interessante molto utile se vogliamo che sia uscito il Muse Compendium perché nel fumetto questo nuovo che è uscito non vado a riraccontare tutta la cosmologia all'origine delle muse ma la do per scontata magari i lettori non la sanno non la conoscono e quindi se prendono il volumino guarda hai fatto bene perché ti rivelo che io pur avendo tutti i volumi di author quando è uscito il Muse Compendium ah finalmente non mi devo rileggere dove appare quella musa per capire cosa fa quella musa capita spessissimo che pubblico un episodio e sotto ah che brava che è stata Talia io s'accentissimo non è Talia quella ma è quest'altra musa qui che tu non ricordi ma è apparsa nell'episodio 44 nel 2017 adesso c'è il compendium siete sereni e arriviamo a Bikini Armors Bikini Armors che è l'ultima cosa uscita proprio uscì in anteprima a Lucca però l'uscita ufficiale era il 25 novembre quindi in realtà ufficialmente è uscito durante questo Cartoon Mix Games Week proprio pochi giorni fa questo è uscito dopo sì la stessa Lucca c'era in anteprima se passavi il listend c'era ma nei negozi non c'era fino all'altro ieri ed è un'epopea post-apocalittica con protagoniste quattro ragazze e un servitore uomo e molto ragazze molto agguerrite ci sono mostri giganti che escono nel deserto sparatorie c'è anche della magia il tutto è un qualcuno l'ha definito una storia on the road perché in realtà è la storia di un viaggio sono loro che partono dalla loro comunità e devono raggiungere un posto per confermare una teoria che potrebbe riscattare la carriera della protagonista che è Stephen quella con i capelli azzurri quella là le altre la accompagnano e man mano che c'è questo viaggio ovviamente si scoprono anche il background come sono fatti questi personaggi perché hanno deciso di accompagnare Stephen in questa avventura e così via qua c'è un simpatico uno c'è un simpatico uno perché il signor salda presso che è voluto immaginare tipo un golem di pietra alto 4 metri non è assolutamente così sto scherzando comunque il signor salda presso ha detto bello questo fumetto ma io vorrei una storia conclusa già e io gli dissi guarda io faccio webcomics nella vita quindi proprio nella vita in generale non ce l'hai presente il webcomics ok sì il webcomics è quella cosa che si pubblicano periodicamente online allora se vuoi il finale di qualcosa che sto pubblicando periodicamente online dovrai aspettare che finisca e lui mi ha detto no lo voglio per data x e io mi sono affrettato a finirlo per data x perché volevo uscire per salda presso anche per scusate anche per Agnese che è la colorista di questo volume che ha fatto un lavoro eccezionale in parecchi lavori sì lei è sempre quella che mi ha anche per avventurare nello spazio profondo alla fine quando ero proprio con l'acqua al collo con le scadenze mi ha dato una mano una trentina di tavole le è colorate lei però in questo fumetto lei è proprio accreditata come coautrice perché veramente si è sobbarcata tanto del lavoro che ho fatto perché forse chi lavora nel campo del fumetto lo sa gli altri no e sceneggiare occupa 10 disegnare occupa 20 il resto il 70 è il colorista che ovviamente deve colorarsi tutte le tavole quindi e poi io le ho lasciato ma giustamente perché ritengo che sia una cosa importante questa grande autonomia dal punto di vista della colorazione cioè se i personaggi sono distinguibili cromaticamente se c'è una palette particolare nel fumetto se sullo sfondo c'è un tramonto anziché un'alba oppure un cielo stellato sono tutte decisioni che Agnese chiaramente consultandomi ma per carità però ha potuto prendere in libertà illuminare il fumetto la scena in un certo modo dare un più calore più freddezza cambia cambia molto il fumetto nel modo in cui si fruisce dell'immagine se il colorista è bravo e Agnese è bravissima quindi non vedevo l'ora di vederlo effettivamente stampato e pubblicato quindi di corsa abbiamo finito il volume 1 e siamo già in dirittura d'arrivo con il volume 2 dopodiché ci dovrebbe essere una conclusione se non altro di un primo ciclo perché poi io magari online lo proseguirò però per tutti quelli che lo compreranno in carta stampata avranno una bella conclusione un bel finale che ho già scritto e insegnato quindi se no salda presto puoi stare sereno tranquillo che le cose funzionano quindi tu sei ancora impegnato su Bikini Armos si va avanti The Author va avanti e cos'altro? beh ci sono tantissime altre cose che qui non vedi per esempio io sono come dicevo sempre a me piace definirmi autore di webcomics tra i webcomics oltre a The Author e a Bikini Armos pubblico anche un Fantasy Enders che è un proseguo spirituale di Drizzit è un fumetto fantasy umoristico che esce non c'è infatti che esce sotto forma di strisce esatto adesso ci arriviamo e quello lo trovate su una pagina a parte Fantasy Enders parla sempre di se la prende un po' con i Japan nel RPG in particolare quindi molto divertente molto scherzoso è sempre in formato di striscia mentre invece questo che è uscito marzo scorso quindi sempre durante l'anno ma marzo scorso Newt e Bobo è un fumetto che io ho pubblicato sotto forma di vignette singole su Instagram tuttavia ha una fruizione molto da fumetto classico esattamente chi l'ha seguito su Instagram bravissimi vi stimo tantissimo però vi siete devastati secondo me per leggerlo su Instagram perché leggersi una o due pagine per quanto ridotte in formato Instagram a settimana era un po' frustrante è un pelo frustrante il volumino che è uscito per Shockedom a marzo riassume i primi due capitoli e adesso sto lavorando agli altri io ricordo che questa storia proprio questo pezzo di storia qui mi sembrava di essere ritornato a Dragon Ball quando succede una cosa in un episodio poi nell'episodio dopo il riassunto della prima cosa succederà nella prossima è un'altra scena e beh soprattutto i combattimenti e le scene d'azione sono le cose che soffrono di più del formato digitale in un webcomic devi stare attento a dare una chiusura ad ogni episodio quando hai qualcosa da narrare che è molto lunga per esempio un combattimento che è un continuo scambio di colpi prova a metterci una battuta ogni quattro vignette ogni cinque vignette è veramente terribile te lo devasta e per questo vi dico anche chi non è riuscito a seguirlo online Newt e Bobo il volumetto lo aspettavamo tutti con ansia sì una mano santa ecco che c'è una domanda fuori onda in realtà riporto un complimento da Torre Edizioni fanno i complimenti per la tua diplomazia la diplomazia oddio in cosa sono esso gentile in realtà quando c'era la richiesta di produrre la fine del volume prima del tempo tu hai descritto bene senza tirare fuori alcun aspetto non diplomatico no ma dai cioè in realtà devo dire che nessuno dei miei editori mi pressa io vivo della costante ansia di produrre cose a prescindere fa male non fatelo fa male è brutto poi finito da analista non funziona però vi dico che a prescindere da loro in realtà io ho questa ansia ma io la rigiro sempre in modo positivo per questo è difficile per il mio analista lavorarci perché io dico sempre ma se io lavorassi come un operaio a una pressa dalla mattina alle otto alle sei del pomeriggio a tirare giù una leva in fabbrica ok lavorerei otto ore tornerei a casa devastato no così ok non faccio l'operaio in fabbrica per fortuna faccio un lavoro che mi piace molto di più per fortuna ma non mi sento giustificato a lavorare meno con meno lena con meno non si tratta di cultura della sofferenza si tratta proprio perché ho sentito anche questa cosa se non soffri non stai lavorando ma non è quello è che se io ho finito di fare un fumetto a luna e non è che allora mi alzo e dico ah ho finito adesso vacanza festa party no penso a me magari posso fare un paio di illustrazioni promozionali magari posso fare una copertina per un altro gioco magari posso lanciare una proposta a un altro editore e così via mi sa che c'è un'altra domanda si no no era solo un'osservazione che non si può mettere pressa a uno che lavora alla pressa ecco adesso lascia il motivo per cui qui da qui vedrete questo buzzer questo viene utilizzato ogni volta che Jobin produrrà qualcuno delle sue simpatiche battite dunque quindi abbiamo spazzolato il passato il presente e parte del futuro parte del futuro nel futuro c'è anche non so se volevi chiedermi questo sì sì ok nel futuro c'è il seguito di Bikini Armors che dovrebbe uscire a pochissimo perché a brevissimo perché sì sì il signor Salda per essere ricordi voglio la fine ha detto quindi probabilmente uscirà in primavera in marzo già uscirà il numero due con il finale e per Newt e Bob è un po' più vago quando uscirà il volume due ma il volume due sarà comunque il secondo e finisce cioè non si prosegue oltre il due e poi ovviamente io continuo a lavorare sia a Fantasy Enders che a The Author con nuove strisce che potete seguirle su tutti i social e andranno avanti pian piano e anche questo potrebbe avere un sequel se Christian Giove ci benedice dall'alto e Enrico di MS Edizione ce lo fa fare potremmo anche andare avanti con Avventura Nello Spazio Profondo ma è ancora presto per dirlo perché è uscito da poco quindi bisogna vedere come va diciamo che le tempistiche della cana che sappiamo che uscirà tra un po' il secondo è un annetto e mezzo quindi ah per realizzarlo sì è molto molto oneroso dal punto di vista del tempo di realizzazione sì però magari stavolta essendo il secondo tentativo ci organizziamo meglio chiamiamo Agnese prima quindi magari riusciamo a farcela benissimo quindi noi ringraziamo Biggio che è stato qui con noi grazie a tutto il reparto tecnico con Mush e la regia e Giobina alla social media e adesso a questo punto si parla tra poco di giochi e alla prossima ciao ciao